Questa mattina al Bar Excelsior di Pescara è stata illustrata l'iniziativa denominata Bollette in vetrina, organizzata dalla Confcommercio Nazionale e a cui aderisce la Confcommercio di Pescara. Il presidente Riccardo Padovano spiega i motivi della protesta. Le sponiamo in vetrina per far capire ai consumatori che noi siamo costretti purtroppo, per forza maggiore, a rivedere i listini prezzi. Noi siamo amareggiati perché la nostra clientela è affezionata, non è che noi abbiamo un turismo che viene, una città importante dove il turismo viene da fuori e quindi se ne accorge o non se ne accorge. Ma noi, i nostri clienti che vengono qua a fare l'aperitivo, vengono in albergo, vanno al mare o vanno a comprare la pizza, di fronte a queste tariffe così esagerate, noi rischiamo o di chiudere o di aumentare i prezzi. Alla politica chiediamo l'immediato intervento sui decreti, su un decreto aiuti che deve partire non da oggi, ma da settembre 2021 perché noi dal mese di settembre che stiamo rincorrendo questi aumenti. E poi in attesa che l'emergenza della guerra, sicuramente è legata alla guerra in Ucraina, si stoppi. Allora, se l'Europa non tiene conto di questa realtà, vuol dire che forse non ha capito che un paese come l'Italia, l'Abruzzo in particolare, rischia di non sopravvivere. Gli aumenti delle bolezze possono fermare certamente, intanto ridurre la CISE il più presto possibile. La regione può fare la sua parte, adesso i parlamentari che si sono candidati, la loro campagna elettorale devono concentrare su questo. Questo messaggio deve arrivare al palazzo della politica. È scandaloso che un'impresa mi dica, no, solo una volta ci è concesso per le famiglie una realizzazione, ma stiamo a scherzare? E se ne le paghiamo le 11, le bollette a fine mese, che succede? Presente anche il presidente provinciale di Federalberghi che spiega i motivi dell'adesione a questa iniziativa e le problematiche che riguardano l'intera categoria. Speriamo che il governo si sveglie e che immediatamente fissi un tetto massimo per l'energia, perché questo non è più possibile portarla avanti. Abbiamo visto che la Spagna e il Portogallo lo hanno fatto, quindi non ci chiediamo come mai ancora l'Italia temporeggia. C'è il rischio che molte aziende, molte imprese possano addirittura chiudere? Allora, gli albergatori hanno già dichiarato che se questo è ciò che sarà, da settembre-ottobre non apriranno sicuramente per tutta la stagione invernale, perché giustamente mantenere quei costi non si riesce a garantire nella sopravvivenza per la struttura stessa e, come dicevamo, neanche quel minimo utile che serviva all'imprenditore per poter investire.